Non lasciano scampo all'inciviltà i controlli della Polizia Municipale dell'Aquila sulla raccolta differenziata. Sono infatti in corso i controlli a campione sui cassonetti in diverse parti della città. A essere controllati sono i sacchi della spazzatura indifferenziata. Perché lì dentro che non devono essere buttati carta plastica e organico? Ad oggi però le notizie non sono confortanti perché le infrazioni riscontrate sono davvero molte. Sebbene gli agenti della Polizia Municipale addetti al controllo usano tutto il buonsenso che il caso richiede, le infrazioni risultano notevoli, tanto da far registrare anche casi di 100 sanzioni su 100 controlli. Infatti nell'indifferenziata al momento dell'apertura dei sacchetti è stata spesso riscontrata la presenza di plastica e vetro in gran quantità. Le multe in questo caso sono inevitabili perché il secchio è contrassegnato da un codice intestato a chi lo ha preso incomodato d'uso. Stesso discorso vale per i cassonetti condominiali. La multa in quel caso è fatta al condominio. I cittadini spesso protestano imputando a passanti la contaminazione dell'indifferenziata. Ma l'azienda dei rifiuti, la SM e la Polizia Municipale garantiscono che nei controlli si rileva con chiarezza quando un'infrazione della norma è casuale e quando l'infrazione è abituale. Tanto vale mettere più attenzione alla raccolta differenziata e sensibilizzare anche i vicini a farlo, sia per la tasca sia per la salute, perché le sanzioni che arrivano fino a 500 euro sono una bella botta sia per il portafogli che per il cuore.